Tu era un ruolo cruciale diciamo all'interno della favola, della fiaba, del film, la maga è quello che praticamente... Che inizia la storia praticamente, sì, diciamo che la mia appunto è questa voce fuoricampo che introduce il racconto, che racconta l'antefatto, come si è arrivati appunto alla trasformazione del principe in bestia e dei suoi servitori e degli abitanti del castello, i nongetti animati del castello ed è un personaggio che appunto compie un maleficio ma che in realtà lo fa a fin di bene perché spera attraverso questo maleficio di ingentilire il cuore di questa persona, di renderlo capace di amare e di essere amato. Mi sono divertita moltissimo, è stata un'esperienza bellissima, anche difficile, complicata, anche perché ho dovuto doppiare una voce fuoricampo, quindi non hai l'aiuto della recitazione di un personaggio al quale ti puoi ispirare per dare voce alla sua interpretazione, ma ho dovuto creare un qualcosa che introduceva la storia e doveva portarti subito in un mondo di magia, perché questo è un film pieno di magia, di meraviglia, di spettacolarità, bellissimo, i costumi sono meravigliosi, le scenografie sono incredibili e ci sono delle scene che ti lasciano a bocca aperta, tipo la prima cena, qui bella è da sola a palazzo in cui tutti gli oggetti animati del castello creano per lei una danza intorno al tavolo, ed è veramente strepitosa, per cui è interessante vedere come poi negli anni, utilizzando la tecnologia, che ovviamente anno dopo anno si fa sempre più sofisticata, questo tipo di storie possono essere raccontate anche in maniera diversa, e bene si prestano oltretutto a questo tipo di racconto. Bell, Emma Watson, l'ho trovata perfetta nel ruolo, mi è piaciuta da morire, perché ha questa purezza, questa semplicità, che però si sposa perfettamente con la determinazione, col coraggio, con questo essere suo anche un po' anticonformista, che trova un connubio esplosivo, che è perfetto per il personaggio di Bell. Trovo che sia una storia importante da far vedere ai bambini, perché è portatrice di ideali e di valori importanti, e c'è questa frase che Bell dice a un certo punto che un po' racchiude tutto, che per essere felici bisogna essere liberi.